benvenuti nel nostro video tutorial le bandierine di carta personalizzate sono un prodotto molto apprezzato dai nostri clienti in quanto vi consentono di pubblicizzare la vostra immagine in modo molto efficace con un costo davvero limitato si tratta di un prodotto eco compatibile in quanto la bandierina in carta e l'asta e in plastica reciclata e riciclabile la nostra bandierina e bifacciale in quanto vi consenti di personalizzarla in senso diritto sia davanti che dietro particolarmente usata in eventi sportivi fiere inaugurazioni accoglienze feste un prodotto per tutti gli eventi che speriamo possa servire anche a voi grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video tutorial